Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi come togliere lo smalto in gel o semipermanente a casa senza rovinare le unghie sotto. Prendo un batuffolo di cotone e dell'acetone o del solvente per unghie, quello che avete a casa e lo metto sul batuffolo di cotone abbastanza abbondantemente. Dopodiché prendo la carta stagnola e vado ad avvolgere completamente il dito e il cotone e faccio così su tutte le mani, su tutte le dita, scusate, e su tutte le mani. Tutto ciò aspettiamo un quarto d'ora, quindi vedetevi un timer e aspettate un quarto d'ora di tempo e dopodiché andiamo a togliere e vedrete che vi arrabbia abbastanza facilmente. Nel caso non vi inizia tutto, ripetete l'operazione, comunque è veramente semplicissimo. E partiamo con la prima unghia. Come vedete viene via, diventerà quasi gommoso il gel e poi si staccherà. E ora abbiamo finito, quindi ecco qui le unghie non rovinate. Spero di essere state utili e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!